Allora, la prossima domanda da parte di Grazia. Una dolce nuova sorella dice, sono Grazia dall'Italia. Può sembrare strana come domanda, ma vorrei imparare, come fratello Giuseppe, i passi biblici e i riferimenti biblici a memoria per poter evangelizzare. C'è un metodo, oltre alla lettura quotidiana delle parole di Dio, per poterle memorizzare? Per capirci, fratello Giuseppe collega diversi passi biblici, da Isaia al Vangelo a Daniele, con semplicità e chiarezza, e vorrei imparare anche io. Grazie e che Dio ci custodisca nel suo amore. Dio ti benedica, grazie a te, Grazia. Ma che bel nome che c'è, sua sorella. Gloria a Dio. Allora, senti, dolce grazia, gloria a Dio. Allora, io, diciamo, l'unzione, Dio mi ha dato l'unzione, una volta che stavo evangelizzando una donna, e questo mi ha detto, guarda, c'è una, io conosco una profetessa, doveva venire, sono andato, ed era a casa dei vicini, sono andati, e c'era questa donna che aveva un negozio, un negozio cos'era, profumi, non mi ricordo cos'era, cibi naturali. Ed è entrata questa cattolica, una dolce signora, che, va bene, non voglio dire il nome, aveva 28 anni, elegadamente vestita, dolce, simpatica, uno spirito bello, ed era una profetessa, una cattolica, ed era una profetessa vera. Cioè, tutto quello che diceva era veramente basato sulla Bibbia, lo so perché la Bibbia la conosco. E allora mi metto a parlargli del Signore, e allora tiro fuori la Bibbia dalla, e questo mi diceva cose che solo il Signore sapeva, veramente solo il Signore sapeva. E quindi ho capito, però era una parla gloria di Dio, ho capito che era una profetessa vera, e parlava anche con l'autorità di Dio, eh, questa qui. E allora sono rimasto colpito, e questo profetizzava anche, profetizzava quello che Gesù diceva in quel momento. Abbiamo passato a momenti bellissimi, e allora, mentre parlavamo di questo e di quello, io tiro fuori la Bibbia dalla mia borsetta, dalla mia borsa, per fargli leggere una scrittura, tutt'ora che io, per farglielo leggere. Mentre tiro fuori la Bibbia, mi dice, guarda, voglio farti leggere, e lei mi dice, no, non c'è bisogno che ti fai fuori la Bibbia, Gesù ha messo, ti ha donato il dono della parola, e nel tuo cuore puoi dirlo senza Bibbia. Aveva ragione perché io, quella scrittura, la conoscevo molto bene, ma lei non lo sapeva che l'abbiamo ammorizzata. A volte tiro fuori la Bibbia per avere più autorità a mostrare che non viene dalla mia cocuzza, ma viene dalla Bibbia. E allora è stata questa donna, infatti Dio mi ha regalato, mi ha fatto il dono della parola, della sua parola. Capisci? Infatti quando ricevo profezie, messaggi, così, automaticamente con la parola che io ho memorizzata nel mio cuore, controllo se la profezia che la mia testa mi dice è basata sulla parola, allora vado. E adesso praticamente la cosa succede simultaneamente, capite? Sono due paralleli. Allora, questa è una cosa che ti... Allora, grazia ti chiede, come può anche lei arrivare a questo livello? Ecco, allora, come si arriva a questo livello? Innanzitutto questo è un dono di Dio, così come uno può avere il dono di miracoli, di profezie, eccetera, è un dono. Come si arriva a questo punto? Si arriva amando il Signore, dando il cuore a Gesù, donandoci al Signore, mettendolo al primo posto nella nostra vita, nel nostro matrimonio, nel nostro lavoro, nelle nostre finanze, nel nostro tempo, nella nostra casa, è tutto. Si arriva a Matteo 22,37. Cosa dice? Amate il Signore, tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima. Con più ami il Signore, con più cresce la fede. Dicevo prima che Gesù mi aveva appena detto, e che... Un messaggio che mi ha appena dato è che la nostra fede è commisurata, è esattamente uguale all'amore per Dio. Il tuo amore per Dio è basso, la fede è bassa. Amore per Dio è superiore, la fede è superiore. E questa è la fede. Quindi Gesù mi ha mostrato, io mi sono studiato di farlo questo tanto tempo, di amare il Signore più che posso. E ho notato che con più amo il Signore, con più mi cresce la fede, con più aumentano i doni dello spirito, con più aumentano i frutti, la protezione, la benedizione, tutto aumenta. E man mano che aumenta il mio amore per il Signore. Ci siamo? Amen, amen. Quindi non so se hai risposto... Sì. Troppo spirituale per caso. No, 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 infatti è semplice. Amando il Signore, amando la parola, è che fai un'abitudine di memorizzare ogni giorno e così la parola ti rimane dentro e ti ricordi la parola. Perché è un amore che hai. Sì, non è solo memorizzarla. Memorizzarla è secondario, è importantissimo. Prima è amarla la parola. I farisei memorizzavano la parola. Ci sono predicatori di professione che la memorizzano e la predicano. Ma non hanno questo amore. Ora, io e altri come me, e meglio di me, cerchiamo di crescere nell'amore. Quando cresci nell'amore, cioè se tu cresci nell'amore verso tuo marito, tua moglie, tua famiglia, tu sarai, senza pensarci, farei cose meravigliose per loro. Lì perdonerai quando sbagliano, li aiuterai quando non hai tempo, gli darei una mano quando non è il caso, gli laverai i piedi in un modo o nell'altro, non parlo materialmente, in base a quello che hanno bisogno, perché li ami. Ora, se noi amiamo il Signore, non cercheremo più il nostro interesse, ma quello di Dio. Non cercheremo più di aumentare la mia chiesa, ma la chiesa del Signore. Non è più la mia chiesa, è di Dio. I miei figli non sono i miei, sono figli di Dio, io sono solamente il tutore, glielo ho detto ai miei figli, io sono il vostro tutore, il vostro vero padre è Dio. Glielo ho detto tante volte. Va bene? Sì. Va bene così? Sì. È abbastanza chiaro? Sì, sì. Allora, diglielo la grazia e gloria al Signore. Grazie dall'Italia. Brava, grazie. A me in Dio ti benedica, sorella. Ah, e poi se vuoi ricevere il corso biblico che ti aiuta a iniziare a studiare la parola di Dio, i soggetti più importanti, anche a memorizzare, facci sapere. Ah, questo non ce l'ha il corso biblico? È una sorella nuova. Ah, è una nuova di zecca. Ok. Dio ti benedica, sorellina. Amen. Grazie.